Sadova Rized in giro vantaggio, poi lungo la corda è Wild Wolf che passa al condurre davanti a Be My Whisper con all'interno Brigia Rabrab, poi Sadova Rized, Bianco Coniglio, ancora Rattle Noir, quindi Fakir, Excellent Beyond, Iole, My Love e Railco Germany, gruppo che prosegue nell'ordine lungo la retta opposta, sempre al comando Wild Wolf nei confronti di Brigia Rabrab, quindi all'argo Be My Whisper, seguono Sadova Rized con all'esterno Rattle Noir e Excellent Beyond che risale all'esterno, siamo ora a lungo la curva, Wild Wolf sempre in vantaggio, Brigia Rabrab lo tallona, a largo Be My Whisper, poi Sadova Rized, Rattle Noir, Excellent Beyond, quindi Iole, My Love e Railco Germany che risalgono con Fakir e Any Given Monday in coda. Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo, Wild Wolf si stacca dallo steccato e al suo interno si propone Brigia Rabrab, seguito da Bianco Coniglio, più a centropista sono Be My Whisper e Excellent Beyond che avanzano, sta passando Be My Whisper, Excellent Beyond lo tallona, all'interno dei due Brigia Rabrab, poi Rattle Noir, Relco Germany e Any Given Monday, Excellent Beyond sta attaccando Be My Whisper e sta passando a centropista nei confronti dello stesso, poi Brigia Rabrab, più indietro Rattle Noir, Any Given Monday e Relco Germany nel tratto finale e Excellent Beyond che è passata di forza nei confronti di Be My Whisper, mentre per il terzo posto all'esterno Any Given Monday e a Pariglia, Rattle Noir e quindi Relco Germany. Andiamo a rivedere questa bella affermazione del numero 10 dello schieramento con Salvatore Basile in sella e Excellent Beyond, numero 10 in questa corsa di chiusura. si impone davanti a Be My Whisper con Dario Vargio numero 4, mentre per il terzo posto sono all'esterno Any Given Monday che dovrebbe aver preceduto il 14, Rattle Noir, quindi il probabile ufficioso arrivo di questa ultima corsa di Napoli è 10, 4, 13. è tutto da Napoli, a risentirci venerdì prossimo.